Salve ragazzi! Sono Martina Bonvissuto, frequento la classe Prima D del Plesso De Pasquali dell'Istituto Comprensivo Francesco Giorgio di Licata. E adesso approfondiremo l'argomento riguardante le consonanti. Le consonanti suonano con l'aiuto di una vocale facendo sillaba. Sono 15 più la lettera muta H. Le consonanti si possono dividere in labiali, dentali, labiodentali, alveolari, palatali, velari. Le labiali sono P, B, M. Si pronunciano socchiudendo e sporgendo le labbra. Le dentali sono D, T, N. Si pronunciano appoggiando la punta della lingua ai denti anteriori. Le labiali dentali sono F, V. Si pronunciano sporgendo le labbra e appoggiando la lingua ai denti anteriori. Gli alveolari sono S, dolce e aspra. Z, dolce e aspra. Si pronunciano appoggiando la lingua agli alveoli dei incisivi superiori. Le palatali sono C, G, dolci. Si pronunciano appoggiando la lingua al palato. Le pelari sono C, G, dure e la Q. Si pronunciano ritirando la lingua verso il palato mobile. Attenzione! La labiale M e la dentale N sono dette nasali perché risuonano nel naso. Le labiodentali F e V sono dette anche espiranti per il più scio che ne accompagna la pronuncia. La labiale S è dette anche similante per il simbilo che la caratterizza. Grazie per l'ascolto e arrivederci!